con la giusta partecipazione alla gara, voglio vedere una squadra convinta dal primo all'ultimo minuto indipendentemente da come si mette la partita, ce la giochiamo fino alla fine, abbiamo tre match ball giochiamoci oggi il primo, fatemi vedere questa grande crescita che c'è stata di questo grande gruppo e fatemi vedere di che cassa di pasta siamo fatti, sia da un punto di vista tattico, sia da un punto di vista tecnico ma soprattutto da un punto di vista caratteriale, voglio vedere una squadra che pensa a giocare al palcio non risponde alle provocazioni, va a centrare l'obiettivo e poi alla fine della partita festeggiamo in bocca al lupo e buoni per te ragazzi, oggi c'è il presidente che non fa crescere capito, il presidente perché il campo deve essere arato come l'altra volta, arate sto cazzo di campo, l'orsogno oggi deve giocare in mezzo alla terra avete capito o no? Sì! Non mi sento! Sì! Quindi oggi incazzati in campo, ricordatevi l'andata come ci hanno trattato, capito? Sì! Come? Sì! Che fa il castellino? Suggisce! Che fa il castellino? Suggisce! Entrate e ammazzate tutti i campi! Suggisce! Grazie! Grazie!